Bene, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente ringrazio gli organizzatori per questo cortese invito. Un secolo fa, fra il 1919 e il 1921, Evgeny Zamyatin scriveva un libro che può pubblicato nel 1924 e immediatamente censurato dal allora regime bolshevico. Il libro si intitolava Noi. Vi si descrive una società che realizza la felicità, sopprimendo il libero arbitrio e razionalizzando l'esistenza, la vita, il lavoro delle persone, producendo sostanzialmente pieno anonimato e piena trasparenza. Le persone abitano in case di vetro, sono sempre visibili in ogni momento da tutti. Un panottico in senso tecnico. Nel 1948 Orwell scrive il suo famoso 1984. Nel 1968 esce la seconda e più celebre edizione del Jukebox all'idrogeno di Alan Ginsberg. Che cosa c'entrano questi titoli? Sono tutte proteste dell'io contro il noi. Sono tutte proteste della persona individuale contro la persona collettiva. Questa persona collettiva può essere a sua volta impersonata in un mega soggetto, il grande fratello, può essere invece spersonalizzata, invisibile, non percepibile. In ogni caso il noi collettivo è spersonalizzante. E questa è l'idea che passa comunemente, l'idea liberale. Che la persona individuale sia primigenia, l'unica che ha il diritto di essere una persona perché è portatrice di diritti, naturalmente portatrice di diritti e che ha un nemico potenziale quando va bene, attuale quando va male. Questo nemico è la persona collettiva del potere. Tutta la nostra lotta è una lotta per la nostra persona contro le potenze spersonalizzanti. A questo punto di vista il 1984 è clamoroso. Cioè la vita viene salvata al prezzo della perdita della personalità. Bene, la tesi che svolgerò è che naturalmente questa è una modalità, è un modo di pensare al rapporto fra la persona individuale e la persona collettiva. C'è stato questo modo, è storicamente esistito, ma non è il modo primario. Il modo primario di pensare al rapporto fra persona singolare e persona collettiva è un altro, ed è praticamente l'opposto. Cioè noi, e quando dico noi in questo caso intendo un noi molto ampio, direi all'ingrosso, è una sensibilità presente di lungo periodo nel pensiero politico occidentale. Noi chiediamo in realtà al noi collettivo di essere persona e lo vogliamo impersonare, lo vogliamo vedere impersonato, perché noi non vogliamo obbedire a niente che sia troppo astratto, troppo impersonale. Noi abbiamo bisogno di vedere la faccia del potere, di costruirla eventualmente, questo in età moderna, ma sicuramente di vedere. Non consentiamo, non ci consentiamo di obbedire, per dirla alla moderna, ad algoritmi, a robot. Questo, in modi molto diversi fra di loro, questo è un filo rosso del nostro modo di pensare alla politica. Anche, e lo vediamo quando sarà il momento, anche la politica moderna che si gloria di essere spersonalizzata. Ciò è vero, ma solo in una certa accezione. Uno dei primi testi della filosofia occidentale, ce lo dice, nel quarto libro della Repubblica, di Platone, dove c'è l'isomorfismo fra la strutturazione dell'animo umano, della persona, e la strutturazione della città. Ci deve essere isomorfismo, cioè la città è persona, e questo al di là della prosopopea delle leggi. Ci deve essere la possibilità di identificarsi o di respingere un potere persona e non un potere che non abbia la nostra immagine. Chiamiamola pretesa personalistica che percorre il pensiero politico, che non ha niente a che vedere con il personalismo, cioè di cui il personalismo filosofico del ventesimo secolo è soltanto una declinazione possibile. Dunque, rapporto costante fra la persona individuale e la persona collettiva, che non vuol dire assolutamente, seconda parte della tesi che sviluppo, che non vuol dire assolutamente coincidenza fra persona individuale e persona collettiva. C'è un isomorfismo e c'è al tempo stesso una differenza incolmabile, chiamiamola, diciamo che c'è una coimplicazione e al tempo stesso una sconnessione fra la persona individuale e la persona collettiva. Alcuni corollari di questa, di quanto ho detto finora. Il tema che stiamo trattando non coincide con la questione della leadership, anche se la comprende. La questione della leadership, cioè se ci deve essere una leadership personale, se come questa debatteggiarsi è parte di quanto sto dicendo, non è il tutto. quello che stiamo dicendo come discorso generale è il potere a immagine di persona. Secondo punto, secondo corollario, la questione è stata storicamente se l'immagine del potere pubblico sia un'immagine umana o sia un'immagine divina, di una divinità antropomorfa. Dunque, se, e naturalmente la precedenza cronologica va alla seconda delle ipotesi che ho fatto, se il noi collettivo è un'immagine di Dio o un'immagine dell'uomo. La modernità occidentale ha risolto questa questione attraverso i processi di secolarizzazione, cioè ha deciso che il noi collettivo ha da essere a immagine dell'uomo e non a immagine di Dio. E tuttavia, quel Dio rispetto a cui era eventualmente immagine era un Dio antropomorfo. La secolarizzazione è molto importante sotto il profilo filosofico e politico, ma sotto il profilo teoretico è un giocare all'interno della medesima linea di fondo il potere collettivo ad avere una immagine. Terzo corollario, fondamentalissimo, che cosa vuol dire persona? Un giurista vi risponde secondo la sua dottrina, in modo canonico. Io che non sono un giurista, sono andato alla ricerca di definizioni essenziali della nozione di persona. E ne ho trovata una che vi comunico, l'ho trovata in Boezio, VI secolo, nel Liber de Persona et du abus naturis. E la definizione che dà Boezio di persona è doppia. La duplicità appartiene alla nozione di persona. La definizione è doppia. Prima definizione. Nature razionalis individua substanzia, sostanza individuale della natura razionale. Qui le parole chiave sono sostanza, che implica presenza, pienezza individuale, natura, cioè abbiamo una presenza immediata e ovviamente la razionalità. Perché quando si parla di persona si parla di esseri umani. Noi non attribuiamo la nozione di persona ad altri che ad esseri umani, tranne che al nostro gatto preferito, al nostro cane preferito, però insomma in filosofia si dice di solito che la persona è un essere umano. Seconda definizione contenuta dopo una riga in Boezio. l'emma persona poi è tradotto anche da un'altra direzione, viene anche da un'altra storia, cioè da quelle persone che rappresentavano quegli uomini nelle commedie, nelle tragedie. Allora qui persona vuol dire maschera. Noi sappiamo che la parola greca prosopon e la parola etrusca fersu vogliono dire persona nel senso di maschera che sta davanti agli occhi. Non c'è definizione di persona più calzante e pertinente di questa di Boezio. Non la conosco. È più antica. L'idea che c'è è quando si parla di persona si è davanti a una duplicità. La persona è corpo e immagine, presenza e rappresentazione, pieno e vuoto, al tempo stesso. ultimo corollario di quanto ho detto, nella nozione di persona ne va della nozione di identità. Quando noi diciamo una persona, noi vogliamo dire un individuo identificato, che poi si è identificato attraverso la sua presenza, o si è identificato attraverso un ruolo sociale o politico che sostiene, questa è un'altra storia, ma certamente c'è una questione di identità. E questa identità, la persona, tanto nell'individuo quanto nella persona collettiva, tanto nella prima persona singolare, io, quanto nella prima persona plurale, noi, questa identità è soggetta alla elementare dialettica dell'identità. Si forma e si afferma un'identità attraverso una differenza. Quando si dice persona, si dice che di persona, né ce n'è più di una, che quella persona è identica a se stessa e al tempo stesso è diversa da altre persone. La questione politica sarà come si fa a gestire al tempo stesso questa differenza fra le persone e questa che rende le persone identiche a se stesse e come si fa a gestire invece l'uguaglianza delle persone che le rende uguali l'una all'altra. Posto che accediamo all'idea che le persone siano uguali l'una all'altra, che è un concetto moderno. Non ha precedenti rispetto alla piena formulazione che se ne dà nel razionalismo politico moderno. Questa è la prima parte di quello che avevo da dirvi. La seconda parte è come è stata costruita la persona pubblica, quali sono i modi attraverso i quali si sono formati i diversi noi politici che si sono susseguiti nel corso delle epoche della nostra civiltà. Diciamo che ne avrei identificati quattro, non è detto che siano susseguentisi, molto spesso si intrecciano, ma certo vi sono tendenze verso l'uno o tendenze verso l'altro e sono tendenze di carattere storico. Quali sono? Il modo di costruzione del noi collettivo costruito sulla diade caput corpus, testa-corpo. Testa-corpo è, nell'ambito del pensiero politico, lo stesso che dire paternità, cioè un elemento organico, qui siamo nell'organicismo, abbiamo un noi collettivo che è un organismo, questo organismo ha al proprio interno delle gerarchie. Il noi collettivo esiste perché esiste un organo che lo impersona. Questo organo che lo impersona è la testa nel corpo umano o è, se vogliamo entrare in una metafora di carattere familiare, il padre. Ovvero qui abbiamo quella dimensione che è l'auctoritas. L'auctoritas, cioè la facoltà che qualcuno dotato di potere paterno ha di far crescere qualche cosa che è organo di un tutto. Un tutto di cui qualcuno che fa crescere è il motore. Il modello di questo è Augusto e le res geste di via Augusti, dove per l'appunto Augusto è un de verbale d'auctoritas. Modello di lunghissimo periodo, la nozione di paternità all'interno di un pensiero organicistico giunge fino a noi. Il padre della patria, che implica che esista una patria, è il modello forse primario del noi collettivo. Noi collettivo vuol dire, a questo punto, siamo tutti fratelli ma non siamo fratelli e basta, non siamo fratelli orfani. Siamo fratelli perché abbiamo un padre. E lì ci impersona, ci fa crescere, in modo potentissimo di pensare al noi collettivo. Un secondo modo di costruzione del noi collettivo si gioca intorno alla nozione di pars prototo, ovvero di rappresentatio identitatis. Voglio dire, è questo il tema della corporazione, un tema che nasce all'interno del pensiero teologico tardo-medievale e consiste nel fatto che una parte sia capace di parlare e interpretare in nome del tutto. Era la teoria conciliare. Il concilio può parlare nel nome, è una corporazione che può parlare nel nome della chiesa universale. La corporazione fatta da tot persone degli orefici può parlare a nome degli orefici. È una parte che parla per il tutto. La corporazione è un altro modello di costruzione del noi collettivo assolutamente potente che è stato presente nella panoplia del pensiero politico fino al ventesimo secolo. Terzo modo, quello tipicamente moderno, che è diversissimo tanto dal primo quanto dal secondo. Cioè il tema della rappresentanza come persona. Che vuol dire? Il modo migliore per capire che cos'è la rappresentanza è decifrare il fronte espirizio del libro di Thomas Hobbes, Il Deviatano, dove c'è un sovrano che è un noi collettivo. Questo sovrano non è il padre, non vuole esserlo e non c'entra niente col padre. Questo sovrano è costruito, cioè si trova all'interno di una concezione dell'umanità e della società assolutamente non organicistica. Gli uomini non hanno piacere a stare insieme, devono stare insieme ma non hanno piacere. Non formano spontaneamente alcun corpo. Il sovrano non è la testa di un corpo che fa crescere il corpo. Il sovrano fa esistere quel corpo. È un perimetro dentro il quale stanno i cittadini. Se non ci fosse quel perimetro non ci sarebbero i cittadini. Il sovrano rappresenta non in quanto una parte si vuole essere presa come tutto, corporazione. No. Il sovrano non è un noi nel senso di un padre dotato di autoritas. No. Il sovrano è il perimetro, cioè il trascendentale della vita associata. Ciò che consente la vita associata. Senza di esso non c'è vita associata. Nel sovrano noi rappresentiamo la nostra voglia di vivere insieme. La nostra volontà di vivere insieme. Non rappresentiamo altro. Cioè nel sovrano ci rappresentiamo come cittadini. Allora il sovrano è una persona, detto esplicitamente, che impersona il popolo. E' una persona ficta, cioè una persona finta. E' una finzione. Una finzione straordinariamente efficace. E' una finzione. Non c'è in natura il sovrano. E' un costrutto razionale dell'uomo. Grazie al quale noi ci inventiamo una figura. Questa figura è ciò che ci consente di vivere come cittadini. Noi non chiediamo di vivere insieme come esseri umani interi. Ci accontentiamo di vivere insieme come cittadini. L'essere umano intero scompare. L'alienazione moderna fra uomo e cittadino. Detto in un altro modo, la modernità consiste nell'uscire dallo stato di natura. Chi vive insieme non sta vivendo insieme in natura. Sta vivendo insieme in artificio. E' il nostro modo di pensare alla politica. Quel sovrano è lo Stato. Nelle costituzioni moderne, quello che Hobbes scrive e disegna quel frontespizio, è il Parlamento nel quale si rappresenta un popolo. Si rappresenta l'unità di un popolo. Naturalmente come cittadini. Cioè tutti i cittadini hanno concorso a formare, se hanno voluto, hanno concorso a formare quel sovrano. Quel sovrano quando parla fa legge, dice una cosa che è cogente, perché quel sovrano rappresenta tutti. Con un problema, perché siccome Hobbes era intelligente e vedeva le questioni, quell'io enorme, quel macro-anthropos, che è il sovrano, è tutto fatto di cittadini. I cittadini, quando sono dentro di lui, sono tutti uguali, cioè hanno tutti una maschera. Nel caso specifico, in quel frontespizio, sono tutti visti dalle spalle, perché le loro teste sono tutti voltati a guardare in faccia il sovrano. Per cui ci sembrano tutti uguali. Come quando si va a votare, siamo tutti uguali. Il sovrano ha una sola parte che non è composta da cittadini. Una sola parte del sovrano. Tutto il suo corpo è fatto di cittadini. Una parte non lo è, la testa. Il sovrano fa di testa sua. È un io collettivo costruito dai cittadini, il cui obiettivo è consentire la vita pacifica delle singole persone in quanto cittadini, e tuttavia non è un pupazzo nelle mani dei cittadini. Ha una autonomia. Appunto, l'autonomia della politica rispetto alla società, l'autonomia delle istituzioni rispetto alle persone. Ecco, da qui non si esce. Lo scopo della modernità è tutto di costruire il sovrano, cioè costruire un io collettivo che sia il più possibile simile a tutti i singoli io individuali, e di abbattere l'oiato, la discrepanza che c'è fra l'io collettivo e l'io individuale. rendere l'io collettivo il più possibile l'organo esecutivo della nostra volontà, privarlo il più possibile della sua autonomia. Ed è precisamente quello che, in forma assoluta, non si riesce a fare. Il punto di approssimazione più alto è probabilmente il neocostituzionalismo, cioè quell'insieme di dottrine intorno a cui si è formata, tra le altre ad esempio, la nostra Costituzione Repubblica. Adesso ci arriviamo. Quello che voglio dire è che il modo moderno, razionalistico, costruttivistico, è tutt'altro che centrato sulla contrapposizione fra la persona e il potere, è centrato sull'isomorfismo sistematico fra la persona e il potere. Il potere collettivo è una persona. E noi non ne abbiamo alcuna paura, perché l'abbiamo fatto noi con l'obiettivo che egli difenda le nostre personalità. Certo, c'è un prezzo, la nostra personalità viene difesa in quanto noi siamo uguali gli uni agli altri, cioè in quanto indossiamo la maschera del cittadino. E l'altro prezzo è che quella macchina che abbiamo costruito non è solo una macchina, non è un robot, è un uomo e comunque ha un'autonomia. Prende decisioni, legittimato da noi, prende decisioni al posto nostro. Lo abbiamo costruito apposta. Abbiamo trasmesso a lui la nostra volontà. Quindi quello che fa lo dobbiamo accettare come se fosse nostro. Tutte le volte che ci crescono le tasse, noi lo accettiamo come se fosse nostro, senza necessariamente esserne entusiasti. C'è una discrepanza fra il volere individuale dell'individuo e il volere di quell'individuo collettivo che è lo Stato. Anche se lo Stato l'abbiamo fatto noi. Non funziona come trasmissione semplice del potere. Non esiste la possibilità di trasmettere le volontà dei singoli io all'io collettivo. Perché? Ma perché i singoli io hanno volontà soltanto in quanto sono contenuti all'interno di quel perimetro, in quanto sono dentro la sovranità. Se stanno fuori, non stanno facendo politica. Sono nello Stato di natura. Quindi ciascuno ha la sua volontà, ma non ci fa niente. Per esistere come collettivo, come noi, si paga un prezzo. Questo non vuol dire che quel noi sia nemico delle nostre persone. È una persona, ci assomiglia, non è noi. Non è ciascuno di noi. Noi non siamo, quel noi collettivo, non è soltanto l'insieme dei singoli io. Oltre questo non siamo andati. Anzi, questo vuol dire che una serie di conseguenze abbastanza importanti, questo che è il più alto sforzo di tenere sotto controllo l'io collettivo, di far funzionare l'isomorfismo fra soggetto e il tutto, evidenzia qualche problema. Prima di tutto, il soggetto, come vi ho detto, qui è alienato fra una persona pubblica e una persona privata. Come persona pubblica siamo cittadini, come persone private siamo delle altre cose. Magari più importanti, però altro, sicuramente altro. Secondo problema, questo essere altro significa che la società è composita, cioè l'io collettivo non vuole, non promette e non vuole la omogeneità della società, promette e vuole la omogeneità della maschera della cittadinanza, poi lascia in essere tutte le differenze sociali. Ciascuno, la propria personalità se la gioca nella società come gli pari, che vuol dire che dentro quell'io, piaccia o non piaccia a Thomas Hobbes, nascono degli altri io ridotti, legati non più dalle antiche comunità, dai vecchi modi tradizionali con i cui si formava l'io collettivo, legati da nuove, nuovi legami, di solito dagli interessi, partiti che portano avanti interessi collettivi, ma non totali, cioè interessi pubblici parziali. Hobbes questo lo sapeva, lo temeva, ma certamente data questa costruzione è molto difficile impedire che dentro quella sovranità si formino dei nuclei che all'inizio non potranno avere valore politico e tuttavia tenderanno ad averlo, dei nuclei parziali. E dunque non solo abbiamo un'alienazione di principio, ma abbiamo anche una differenza di fatto. Poi abbiamo, ve l'ho già detto, terzo punto, la differenza fra l'io e lo Stato, fra i molti io e lo Stato. Questa è una differenza insuperabile, anche lo Stato più rappresentativo di questo mondo è diverso, non è un prolungamento della nostra volontà. quarto, fondamentale, non viene meno per nulla, nemmeno in età moderna, uno dei modi fondamentali con i quali si crea l'identità, cioè la differenza rispetto ad altre identità. Non solo la differenza dentro la sovranità fra i diversi soggetti che agiscono nella società, ma la differenza fra le sovranità. la guerra, la possibilità della guerra. Gli Stati sono l'uno rispetto all'altro nella posizione dice Hobbes del gladiatore, cioè sempre sul punto di aggredirsi. Per essere identici a se stessi devi essere diverso da qualcun altro. Anche da questa che sarà la maledizione di Caino, ma insomma da questa è molto difficile uscire. Questa fondamentale differenza del noi, non tanto rispetto agli io che compongono in noi, ma rispetto agli altri noi, questa differenza la possiamo attutire, smussare, tenere sotto controllo, ma insomma proprio eliminarla radicalmente in un mondo di fraternità senza paternità è diciamo che è un'idea che non si è realizzata e che probabilmente non è neanche in corso di realizzazione. L'altro modo attraverso il quale si è formata il noi collettivo il quarto è centrato sulla violenza, cioè in modo di è un'interpretazione demistificante di tutto quanto ho detto finora. Prendiamo come portatori di questo modo alcuni pensatori otto novecenteschi, novecenteschi essenzialmente, dai, Freud, Girard, Karl Schmidt detto in modi molto diversi fra di loro per piste argomentative molto diverse fra di loro questi pensatori ci dicono che la costruzione del noi collettivo cioè della persona collettiva non è per nulla ipotizzabile attraverso l'idea organicistica del rapporto testa-corpo non è per nulla ipotizzabile attraverso l'idea moderna del contratto razionale che crea il sovrano ma il modo di produzione della persona collettiva è la violenza e dunque la persona è una maschera che non copre una paternità è una maschera che non copre una sovranità alienata alienante la persona collettiva è una maschera prodotta dalla e dalla violenza che copre la violenza o che la fa vedere Freud da che cosa nasce la forma politica dal parricidio i fratelli uccidono il padre perché il padre aveva il monopolio delle donne eccetera i fratelli uccidono il padre e poi introiettano la violenza compiuta come tabù dell'uccisione del padre cioè come superio come coazione all'ordine noi viviamo obbediamo alla legge perché siamo perché la legge è la vendetta del padre ucciso poco bello poco rassicurante certo non obbediamo alla legge perché vediamo in vita il nostro padre quando egli era in vita lo odiavamo lo volevamo uccidere certo non obbediamo alla legge perché abbiamo costruito attraverso il contratto razionale la figura del sovrano no obbediamo alla legge perché abbiamo ammazzato il padre e egli da morto si vendica facendoci obbedire a un sostituto del padre la legge Girard va oltre la violenza il sacro naturalmente quello che ho detto era totem e tabù Girard la violenza il sacro siamo 60 anni dopo dice ma perché Freud si è fermato a vedere solo l'omicidio del padre perché non ha fatto l'ultimo passo l'ultimo passo è vedere a fondamento della società l'omicidio di tutti verso tutti cioè la cosiddetta violenza mimetica questo è l'origine questo è praticamente lo stato di natura questa è l'origine della persona collettiva come? beh la persona collettiva serve a bloccare la violenza mimetica cioè la violenza la possibile violenza di tutti contro tutti per imitazione c'è l'omicidio allora per imitazione si sparge come un virus l'uccisione come la si blocca con un'uccisione con un'uccisione del capro espiatorio che ultimo prodotto della riflessione di Girard poi è l'ultimo capro espiatorio cioè non solo un banale capro espiatorio che deve essere continuamente sacrificato la presa in carico di questa dimensione negativa della produzione della persona collettiva e il blocco definitivo cioè quello che ha pagato per tutti ovviamente è Cristo l'ultimo capro espiatorio senza il versare sangue non si blocca il versamento di sangue l'ordine il noi collettivo è un noi che può esistere perché qualcuno ha placato nel sangue la tendenza al versare sangue in modo indiscriminato la persona collettiva è una persona non razionale è una persona sacrificale Schmidt è come dire non ci sono padri e non c'è nemmeno il capro espiatorio il rapporto amico nemico strutturante la politica non può essere fermato può essere soltanto momentaneamente tenuto sotto controllo neutralizzato attraverso una sovranità che lo neutralizza perché lo esercita dunque non certo una sovranità razional liberale dunque tirando le somme la persona pubblica non esiste esiste sempre e soltanto una persona parziale in lotta attuale o potenziale contro altre persone parziali non a caso questo giurista distrugge il grande mito costruito dal pensiero giuridico tedesco nell'ottocento il mito della personalità giuridica dello Stato cioè una derivazione per raffinamento della sovranità obesiana lo Stato è sovrano e in quanto sovrano è una persona dice ma che persona quando va bene ne è due in lotta fra di loro Stato e antistato è praticamente una lettura paradossalmente per questo autore non certo di sinistra fortissimamente debitrice di Bakunin cioè del fatto che non esiste un ordine non esiste una persona la maschera è sempre spezzata dietro di essa si vede si vede non un volto ma si vede una guerra allora detto questo ultima parte del mio intervento oggi 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 quando parliamo di persona individuale persona collettiva di che cosa stiamo parlando oggi vuol dire la tarda modernità cioè l'epoca in cui uno degli assunti due assunti fondamentali della modernità sono esplosi primo assunto l'uomo è essenzialmente uomo economico la modernità costruisce la politica intorno all'utile verissimo tutti quegli omini che compongono la persona collettiva di Hobbes sono degli individui possessivi sono dei possessori che possiedono beni possiedono diritti possiedono il diritto alla vita alla libertà e alla proprietà questo sarebbe l'Oc in Hobbes è talmente radicale che non mette come diritto naturale la proprietà dice perfino la proprietà gliele data dallo Stato però chiaramente la sua filosofia politica serve a formare a garantire un ordine all'interno del quale come dice lui stesso possiamo usufruire dei prodotti della nostra industria scopo del gioco è produrre in sicurezza ed essere padroni proprietari di ciò che abbiamo prodotto in Hobbes prevale l'idea che il diritto fondamentale ovviamente è il diritto alla vita mezza generazione dopo è chiaro che il diritto è vita libertà e proprietà per cui nell'età contemporanea abbiamo l'esplosione del concetto di persona come proprietaria di se stesso e di ogni bene che legittimamente possa possedere e poi esplode anche l'altro principio in età moderna non si obbedisce a una persona si obbedisce alla legge attenzione non si obbedisce a una persona vuol dire non si obbedisce al capriccio arbitrario di una persona si obbedisce alla legge impersonata o in una persona un sovrano o in una istituzione un'assemblea sovrana questo l'abbiamo già detto questi due principi l'individuo proprietario e impersonalità della legge cioè razionalità prevedibilità della legge esplodono e vengono forzati a essere l'unico elemento attraverso il quale si può pensare la politica perché perché quello che va aggiunto è che l'età moderna come ve l'ho rappresentata cioè la persona collettiva fondata sul concetto di rappresentanza la persona individuale fondata sull'alienazione fra cittadinanza e proprietà sociale questa idea moderna del rapporto fra persona individuale e persona collettiva veniva ecco è un po' debole così è un po' debole veniva corroborata irrobustita da un'ulteriore aggiunta di personalità in realtà noi nella storia moderna noi non vediamo muoversi dei leviatani razionalistici e basta vediamo muoversi degli stati leviatanici certo che sono al tempo stesso stati nazioni diciamo così lo svuotamento moderno del modello paterno autoritario produce l'esigenza che il nuovo modello razionalistico venga irrobustito da forte iniezione di natura nazione per l'appunto per cui noi abbiamo come modo di costruire il noi collettivo abbiamo sicuramente quello che avevo detto cioè la rappresentanza parallelo adesso parallelo e compresente sempre compresente abbiamo il modo della nazione noi viviamo dentro uno stato in cui siamo cittadini produciamo le leggi attraverso la rappresentanza parlamentare tutto quello che volete poi perfino la nostra costituzione che è molto sobria a un certo punto dice è patria a un certo punto il noi non è soltanto il gioco della rappresentanza diventa un gioco simbolico la patria noi abbiamo non l'altare dello stato a Roma abbiamo l'altare della patria noi sui francobolli un tempo si metteva l'Italia turrita non si metteva un pezzo della nostra costituzione due modi paralleli quello come dire strutturalmente decisivo è quello della rappresentanza ma certo non si fa politica senza l'altro il noi collettivo non è soltanto il noi dei cittadini è il noi dei compatrioti è il noi delle persone della medesima nazione allora a spinger troppo su questo tasto succedono disastri evidentemente perché la nazione è portatrice di un forte elemento di differenziazione rispetto alle altre nazioni questa differenziazione può essere giocata in positivo alla Mazzini può essere giocata in negativo e diventa nazionalismo con le guerre eccetera per mille motivi compreso che tutto ciò è costoso e inutile lo sviluppo dell'età moderna ha messo negli ultimi diciamo 40 anni in sordine ha messo la sordine all'elemento del noi simbolico collettivo e ha molto molto sottolineato invece il fatto che in età moderna il noi collettivo deve essere ritenuto soltanto un noi fatto di regole e che l'uomo moderno è essenzialmente un uomo economico cioè che la questione fondamentale della nostra esistenza è trovare l'algoritmo grazie al quale l'interesse individuale è soddisfatto all'interno della soddisfazione degli interessi collettivi tutto ciò viene è stato interpretato in modo vittorioso fino a qualche tempo fa da una filosofia politico-economica che all'ingrosso chiamiamo neoliberismo ecco dove il noi collettivo sostanzialmente scompare cioè lo Stato affievolisce la propria presenza la patria non ne parliamo e il noi collettivo è dato è il mercato la interazione fondamentale tra gli esseri umani è data dal mercato l'ordine è un ordine impersonale il mercato non ha volto non si sa chi è è un sistema di scambio è catalassi scambio e l'uomo è essenzialmente un imprenditore con tutte le caratteristiche che il neoliberismo dipinge come positive dell'imprenditore cioè ardimento libertà energia immaginazione e questo è il messaggio ecco il messaggio che è passato cioè sii te stesso che poi il motivo per cui il neoliberismo ha avuto la presa mondiale è che non diceva non si presentava come il comando di un noi collettivo contro il noi individuale ma si presentava come l'eccitamento e l'esaltazione di tutti gli io individuali sii te stesso segui i tuoi sogni sviluppa la tua energia produci la tua vita dunque abbiamo spersonalizzazione del collettivo e iper personalizzazione dell'individuo bene le cose sono andate un po' diversamente dopo dopo un po' ci si è accorti che tutto ciò significava in realtà l'esatto contrario cioè che il potere rimaneva ma si sottraeva alla vista diventava potere opaco cioè potere opaco che non si capisce da dove venga da chi sia legittimato quando si dice i mercati si dice comandano i mercati è piuttosto sgradevole davanti se lo paragoniamo a un'affermazione del tipo comanda lo Stato perché almeno lo Stato capiamo chi è dove sta come è fatto chi l'ha fatto comandano i mercati capiamo molto meno e da una parte dall'altra l'individuo che viene presupposto come dato come l'immediato come ciò che viene prima di tutto beh questo individuo è continuamente sottoposto a diciamo limitazioni mortificazioni della personalità della sua personalità che viene continuamente plasmata indirizzata controllata non è per niente vero che viviamo liberamente siamo tracciati continuamente e lo saremo sempre di più allora la la presunta immediatezza della nostra libera personalità è in realtà funzione di una gigantesca mediazione siamo all'interno di un tutto che anche senza voler essere adorniani insomma non è precisamente l'autenticità quanto più ossessivamente siamo invitati ad essere noi stessi ad essere identici a noi stessi ad essere autentici tanto più concretamente siamo uniformati plasmati tracciati vaccinati o qualunque cosa vogliamo vaccinati moralmente non parlo del vaccino fisico indirizzati dentro correnti mainstream ora a tutto ciò ci sono delle reazioni di vario tipo e di vario livello e contraddittorie la prima più ovvia quella che questa mattina facendo una conferenza stampa mi è stata subito avanzata come obiezione ma ci sono i social il noi collettivo è il social bene il social è chiaramente produttore di un noi collettivo che quello sia poi politico è un'altra storia cioè che attraverso quella costruzione fittizia di collettività attraverso facebook o gli altri mezzi abbia significato politico cioè sia un modo per affermare la nostra personalità all'interno di una persona collettiva mi permetto di avere qualche dubbio si potrebbe forse meglio pensare che i social siano un modo attraverso il quale ciascuno gestisce la propria mancanza di relazioni non la propria pienezza di relazioni un altro modo un'altra obiezione ma perché dici che il potere è spersonalizzato oggi quando evidentemente sotto gli occhi di tutti c'è un trend che fa sì che chi ancora si interessa vagamente di politica si interessa di politica perché la politica è portata da persone da leader tutti sostengono che il grande cambiamento delle dinamiche politiche intercorso negli ultimi decenni è la scomparsa dei partiti che bene o male avevano leader ma insomma non coincidevano con leader era un noi collettivo che non coincideva con il segretario generale del partito la scomparsa del partito di massa organizzato del partito della partecipazione del partito del noi collettivo parziale e la trasformazione del partito in un fluttuante movimento di opinione bloccato catalizzato attraverso opportune metodologie catalizzato bloccato fatto confluire un mood fatto confluire su una persona tanto che i partiti sono o personali o solo nella persona trovano visibilità solo nella persona del leader vengono conosciuti riconosciuti ed eventualmente dichiarati legittimi non si vota per un partito si vota per un leader e questo sia a livello di partito sia evidentemente prima o poi a livello del noi collettivo cioè dello Stato alla fine prima o poi qualcuno di questi leader diventa il capo del governo o il capo dello Stato a seconda delle diverse costituzioni cioè lo svanire delle istituzioni che vengono bruciate dalla personalità del leader allora il potere è impersonale o personale e contro la impersonalità del potere oltre che le leadership che cosa si muove l'altro grande fenomeno contemporaneo il populismo cioè un modo per dire noi una brusca contrapposizione fra noi e quelli là noi il popolo e quelli là le elite sembrerebbe un potere impersonale il popolo impersonale però va sempre a finire che bene o male questo il movimento populista o è prodotto addirittura ma insomma produce un leader senza il leader non c'è un noi in modo molto banale semplificato non c'è niente della complessità della rappresentanza moderna no no il leader è il movimento di protesta come il leader è il partito di establishment allora abbiamo una contraddizione come la risolviamo come la interpretiamo i poteri oggi sono poteri personali o sono poteri impersonali la politica è fatta da algoritmi o è fatta da leader di solito di solito i poeti ci vedono bene capita che ci vedano meglio dei filosofi ed ecco vi leggo un verso in realtà due versi di un poeta svedese premio Nobel del 2011 Thomas Tranströmer libriccino il grande mistero i due versi il libriccino è uno dei suoi ultimi per cui è degli anni dieci di questo secolo i due versi il potere somiglia a una cipolla dai volti sovrapposti che uno dopo l'altro si staccano secondo me è detta in modo favoloso favolosamente centrato i volti si staccano il potere non ha una consistenza ontologica non è né una cosa né una persona la persona collettiva oggi non c'è quando la vediamo impersonata in un leader stiamo vedendo un volto consumabile e come dire un volto che può essere sostituito con un altro non stiamo vedendo la persona pubblica stiamo vedendo un'immagine stiamo vedendo meglio ancora una costruzione elettronica continuamente modificabile perché non ha consistenza noi non possiamo fare a meno di pensare alla politica attraverso le persone ma le persone non hanno consistenza le persone politiche non hanno consistenza qual è la differenza quindi e chiudo rispetto al nostro recente passato che questo non l'avremmo potuto dire di una persona politica collettiva costruita consapevolmente da un atto costituente delle personalità empiriche dei cittadini costruita e rafforzata attraverso la pluralità delle persone intermedie cioè dei partiti l'idea del potere cipolla fatto di foglie concentriche che possono essere buttate via non è un'idea che sta dentro la nostra costituzione la nostra costituzione è molto più oggettiva e realistica parla di un popolo parla di un popolo che ha una sovranità che possiede una sovranità e questo è una persona questo popolo si impersona nella rappresentanza politica cioè nel parlamento poi la sovranità non viene esercitata da una sola istituzione ma è diffusa fra le istituzioni per cui nessuno la possiede nessuna istituzione la possiede per intero la possiede per intero soltanto il popolo che la esercita nel momento costituente con pienezza e invece all'interno dell'ordine costituito la esercita attraverso le leggi cioè tipicamente il sistema elettorale eccetera tutto ciò è estremamente oggettivo esiste e non solo è oggettivo ma produce una persona pubblica chiamiamola repubblica italiana il cui obiettivo è certamente passa attraverso l'alienazione cioè considera primariamente i cittadini certo ma siccome è democratica e consapevole di questa alienazione sa che dietro la maschera del cittadino c'è la personalità reale degli individui e all'articolo 3 che è l'articolo decisivo della nostra costituzione dice che la repubblica ha come obiettivo non soltanto quello di farci vivere in ordine come tante tessere di un mosaico alla OBS ma quello di farci vivere in ordine come tessere di un mosaico altrimenti non si conclude niente e di far sì che ciascuna tessera ciascun cittadino sia molto più che una tessera sia un essere umano la cui fioritura è resa possibile dal fatto che la repubblica agisce rimuovendo gli ostacoli alla fioritura questo è il neocostituzionalismo cioè prima viene l'individuo ma l'individuo non è lasciato solo gli si dice arrangiati vai che sei forte no l'individuo viene fatto fiorire perché ciò avvenga è necessario che la persona pubblica non sia un'immagine su uno schermo né una cipolla è necessario che la persona pubblica esista funzioni e che funzionino quelle persone intermedie che erano i partiti quello che è previsto non è il formarsi di tanti noi virtuali e fittizi via facebook quello che è previsto è l'obiettivo ultimo garantire la fioritura attraverso una strumentalità politica che ha una sua oggettività e in questo sta la sua democraticità questo non vuol dire che abbiamo costruito un io collettivo identico ai diversi io individuali quell'io collettivo ha comunque sia una sua autonomia non esiste un io collettivo che sia soltanto una macchina dispensatrice di benefici no ma certamente nella sua autonomia quel modello è il modello più avanzato di convivenza relativamente pacifica fra la persona pubblica e le persone private quel modello la vera domanda e chiudo è quel modello è ancora replicabile o dobbiamo oggi accettare che non ci sia più la possibilità di costruire in modo consapevole una persona pubblica o che la persona pubblica si sposti ma da questo punto di vista non fa molta differenza dal livello statale poniamo a livello sovrastatale europeo non fa molta differenza concettuale molta differenza politica ma non concettuale ma la differenza concettuale è di tutte le linee di pensiero politico contemporane che dicono basta non possiamo più ragionare in termini di persona collettiva persona individuale è una linea morta è prodotto soltanto delle contraddizioni più parli di persona più parli di identità e più parli di identità più parli di conflitto non ce la fai a uscire da questo in ogni caso è già stato tutto ciò cancellato dagli sviluppi della globalizzazione e allora invece che pensare all'identità pensiamo alla marginalità invece che pensare ai confini pensiamo all'attraversamento dei confini sembra la grande soluzione non vorrei che fosse adagiarsi completamente sul problema e definire il problema già come soluzione io continuo a pensare che l'obiettivo della politica sia formare figure immagini consapevole che l'immagine è mutilante che non è che non rende il tutto ma perché mai la politica dovrebbe essere la dimensione in cui si dà la pienezza della vita la pienezza della vita se c'è non sta nella politica quello che conta è che la politica non mortifichi totalmente la pienezza della vita renda possibile un fiorire che non è un fiorire politico se noi siamo all'interno di una utopia totalitaria positiva che francamente non va bene nemmeno coltivare no l'idea mia è costruzione di persona pubblica costruzione di persona individuale costruzione di persona individuale vuol dire lavoro su di sé costruzione di persona pubblica vuol dire lavoro oggettivo insieme agli altri dove oggettivo vuol dire non social vuol dire incontro relazione nel confronto oltre questo vedo grandissimi pericoli di scambiare il problema per la soluzione vi ringrazio grazie grazie